Amici di Teletrash, buongiorno e buon 2016 a tutti. Saluto Renato Bettini, saluto il mio caro amico Marvin, il mitico, l'unico. E sono qui, iniziare il primo gennaio 2016, con un sensazionale video. Uno stato di pieno centro paese, uno stato di totale degrado e abbandono, di un pezzo forte. Una Alfa Giulia 1300, in stato di totale degrado e abbandono. Guardate come lotta contro i robbi questa macchina, è incredibile ragazzi, è incredibile. Guardate, guardate il colpaccio, il colpaccio del primo dell'anno, dall'inviato speciale di Teletrash, Rocca Alessio. Guardate, guardate come lotta contro i robbi questa Giulia 1300. Guardate. Giulia 1300, in stato di totale degrado e abbandono. In pieno centro paese. Guardate come lotta contro i robbi, contro la ruggine, contro la natura e contro il selvaggio. Totale degrado e abbandono. Incredibile. In pieno centro paese. In pieno centro paese. Guardate ragazzi, sensazionale, fantastico, fantastico. Questa potrebbe essere recuperata tranquillamente. Ragazzi, ancora a Teletrash, a René Vintage, a tutti gli amici di Auto Abbandonate. Buon 2016. Qui dall'inviato speciale del Maravind, Rocca Alessio. Salve a tutti. Grazie. Grazie.